Sportello Universo Donna, una puntata, una striscia diversa dalle precedenti perché vogliamo lanciare alle donne un messaggio per impegnarsi, per darsi da fare, per reagire, per essere protagoniste. Gianna Cavallo, responsabile del settore Pari Opportunità e Servizi Sociali dell'Associazione Stella Maris. Sì, vorrei che questo messaggio fosse lanciato proprio da due donne giovanissime che fanno parte dello staffo tecnico dello Sportello Universo Donna affinché possano raggiungere tutte quelle donne e far capire che è importantissimo per loro crearsi degli obiettivi che siano quelli che ne sono artistici, culturali ma anche e soprattutto con dei corsi di formazione per l'inserimento nell'ambito lavorativo perché è importantissimo per la donna anche l'indipendenza economica. E allora, Sara Leo, quale messaggio, cosa si sente di dire alle donne, a tante giovani soprattutto, affinché effettivamente diventino protagoniste di se stesse innanzitutto? A prescindere dall'età è importante che una donna creda in se stessa e soprattutto coltivi i suoi interessi, non solo dal punto di vista lavorativo che è importante, l'indipendenza economica è estremamente importante per la realizzazione di se stesse, ma anche da un punto di vista personale. Quindi un percorso interiore è perché no creativo, perché attraverso l'arte di qualsiasi genere essa sia, si riesce a tirar fuori degli aspetti interiori che forse non si credevano di avere. E un'altra donna, giovane rappresentante, componente dello staff dello sportello Universo Donna, la dottoressa Manuela Scarano. Il suo messaggio alle donne? Il mio messaggio rivolto alle donne è quello di non lasciarsi inserire i modelli creati dalla società, soprattutto quella meridionale. La bellezza della cultura meridionale è sicuramente la famiglia, però molte volte questa può diventare una prigione. Allora invito le donne a non cullarsi, perché devono capire che il matrimonio purtroppo nella maggior parte dei casi non è eterno. E quando i figli crescono poi la donna cosa si ritrova? Allora le donne devono pensare a se stesse, dal punto di vista lavorativo e anche dal punto di vista dei propri interessi personali. Quindi non annullarsi mai, perché annullarsi significa diventare schiavi e le catene molte volte le creiamo, le forgiamo noi stesse e questo è sbagliato.